La svolta si è consumata nella tarda serata di ieri, quando, anche in seguito alle difficoltà riscontrate nella scelta del nuovo allenatore, l'unico che aveva accettato un contratto fino a giugno era stato Leonardo Semplici, Danilo Iervolino e Morgan De Santis hanno convocato una parte del gruppo Granata al fine di sondarne gli umori. Non c'erano tutti, ma sebbene con diversità di vedute, alla fine i calciatori non si sarebbero opposti al ritorno del tecnico appena esonerato, che era stato scaricato sul campo e negli spogliatoi. Bisognerà capire come verranno ricomposti i cocci, perché è evidente che tra tecnico e squadra non ci sia la sintonia dei mesi scorsi, che non ci sia mai stato grande feeling fra Nicola e De Santis. Il DS però avrebbe dovuto portare alle estreme conseguenze e quel famoso moriremo insieme ed allora, sebbene ci siano stati sondaggi, contatti, incontri e videocall con tanti allenatori, alla fine si è provato a ricucire lo strappo. Il modo scelto per uscire dall'imbarazzo è quanto meno insolito. Non è stata la società dare l'annuncio ufficiale della retromarcia, ma sfruttando anche il grande impatto social di Nicola, si è deciso di affidare il compito all'allenatore che ha pubblicato una lettera in cui ha spiegato come siano andate le cose, sottolineando di aver chiesto a Iervolino di tornare sui passi per amore di Salerno e sottolineando al tempo stesso meriti, pregi, qualità del patrono, addirittura ringraziando De Santis per la mediazione delle ultime ore. Una soppopera non avrebbe saputo regalare un epilogo più sorprendente e mieloso. Ora però è chiaro a tutti che non si potrà più scherzare. Se riconciliazione ci sarà stata, dovrà essere il campo a sancirla. Prestazioni, atteggiamenti, risultati dovranno essere all'altezza delle parole spese in questi mesi e degli investimenti sostenuti. E c'è da capire se sul mercato ci sarà finalmente sintonia e se si colmeranno in tempi rapidi le lacune della Rosa, sguarnita in alcuni ruoli anche a causa degli infortuni. Da questa vicenda nessuno esce esente da responsabilità e con l'immagine intatta e dimacolata. I tifosi finora sono gli unici ad aver mantenuto un profilo di responsabilità e di serietà. E sabato dovranno essere ancora più saggi e maturi. Poi però dalla proprietà, dalla dirigenza, dal tecnico e dalla squadra sarà lecito attendersi un cambio di rotta vero, sostanziale e deciso. La solitana e la sua tifosiria meritano rispetto. Nicola si è preso in toto la colpa della sconfitta di Bergamo ma passare per capo ispiratorio per quanto sia un gesto nobile da parte sua non assolve tutti gli altri. E successivamente alla lettera aperta pubblicata da Nicola e condivisa dalla serietà è arrivata la dichiarazione di Morgan De Santis. Intendo esprimere la mia profonda soddisfazione per il rientro del mister Davide Nicola alla guida della squadra. La direzione sportiva, come ha sempre fatto, continua ad affiancare l'area tecnica dando tutto il supporto necessario per rendere la serietà più forte e competitiva. Tutti insieme affrontiamo uniti un campionato difficile pieno di insidie per raggiungere compatti i traguardi che merita il club, tutti i suoi tifosi e la città di Salerno. Firmato Morgan De Santis. Com'è, com'è non è, la serietà riparte, lo stesso allenatore dal medesimo di esse, ripartire. Ecco, è questo l'importante al termine di tre giorni davvero senza precedenti.